Niki no, non si mangia No Una domanda, solo a me piace tantissimo il caffè solubile Sono satana Grazie per la visione Comunque mi sono dimenticata di dire che cosa ne penso del film di Mulan So che vi interessa moltissimo quindi io devo dire la mia Allora, cari amici della Disney Se ci tenete a rifare i cartoni va bene Ma ci sono delle cose, dei dettagli imprescindibili Che hanno reso il cartone così memorabile che voi non potete non mettere nel film Quindi se io guardo Mulan Tre cose voglio vedere Il grillo parlante, Mushu e la fottuta nonna Ok? Non c'è nessuna di queste tre cose Quindi il vostro film fa schifo Chiuso il discorso Ci ho dimenticato una quarta cosa La cazzo di storia d'amore Cioè io nel cartone non vivo quella storia d'amore appieno perché è un cartone Tu fammela vivere nel film visto che vuoi tanto fare il film Come puoi non mettermi il comandante Possente e coraggioso con cui nasce la Lost Story Ma farla innamorare di quel secchetto Che se lo guardi si spezza Con cui si tocca a malapena la mano Oh my god